Non ci sarebbe stato materialmente tempo necessario di fare dei calcoli, mi conviene o non mi conviene, perché quando tu giri l'angolo, o in quel caso giri la curva e trovi in mezzo alla pista una macchina in fiamme, l'istinto è stato quello di fermarmi. È vero che la ringrazio solo molti anni dopo? No, diciamo che non mi ha mai ringraziato a priori. Il merito fu di Bernie Eccleston che in occasione del Gran Premio in Germania che si inaugurò con la pista nuova del Nürburgring e fece un combino che risultò poi tutto fatto e studiato da RTL, fatto in diretta. Eccleston ci disse venite tutti e due con me in macchina che andiamo a vedere il punto dell'incidente. Devo dire che grazie a Bernie ha ricongiunto un'amicizia che poi è durata per vent'anni, e scusate l'emozione. E veramente dopo ci sentivamo mediamente tutte le settimane, poi dipende l'occasione, e voglio dire è nata veramente l'amicizia, mentre prima era un'amicizia fasulla di conoscenza, poi dopo invece strada facendo è diventata tutta un'altra cosa.